Sono Andrea Orsel, CEO e fondatore di Unicredit. Ti stavo aspettando. Questo è il tuo giorno fortunato. Non so come sei finito su questa pagina ma non te ne pentirai. Ho inviato un invito a questa pagina esattamente a 45 persone. Sei uno dei 45 prescelti che avranno la possibilità di guadagnare soldi che ti cambieranno la vita. Non farò promesse vuote come tutti gli altri. Qual è la differenza tra me e questi truffatori? Prima di tutto sono Andrea Orsel e non voglio niente da te. Ti mostrerò la prova che il mio progetto funziona davvero. 1000 euro al giorno. Contali per favore. 1000 euro al giorno equivalgono a 7000 euro a settimana. Se lasci questa pagina non avrai la possibilità di finire questo video. Il tuo collegamento scadrà e con esso le tue possibilità di guadagnare denaro. Quindi prima di andare avanti c'è una cosa importante che devo ricordarti ancora una volta. Non sono uno specialista in assicurazioni per disturbarti e poi dirti che voglio che tu firmi un contratto a vita. Ti mostrerò come puoi cambiare completamente il tuo stile di vita. Come puoi scambiare la classe economica con un get privato così sarà tutto più chiaro. E finalmente posso mostrarvi di cosa si tratta.